Musica Allora stamattina in Regione c'è stata una riunione operativa alla presenza del dirigente generale dei lavori pubblici l'ingegner Pallaria, del capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi, del presidente della provincia Enzo Bruno, ma ha partecipato anche il dottor Lofedo delle Ferrovie della Calabria, io in qualità di sindaco di Gimigliano per trovare una soluzione alla chiusura della SP40 che praticamente isola una parte del centro storico di Gimigliano parte bassa. La riunione è stata importante perché si sono individuate alcune risorse che possono essere utilizzate per l'appunto per la Galleria Paramassi che in questo momento ha un movimento roto traslazionale e quindi la provincia preoccupandosi di un eventuale incidente ha dovuto chiudere la strada. Gimigliano purtroppo è afflitto da un dissesto ideologico conclamato oramai a conoscenza di tutti e la protezione civile ha promesso che dal 10 aprile partirà un sopralluogo su tutto il territorio per fare il punto della situazione perché ci sono molte frane ma quello che preoccupa di più è la grande frana di Gimigliano conosciuta come grande frana, una paleofrana che è in movimento al di sopra della quale ci sono 1200 famiglie, quindi una cosa preoccupante, una cosa che io ho fatto presente non può essere affrontato da un comune che non ha le risorse necessarie per fare degli interventi. Speriamo che finalmente la Regione abbia compreso la pericolosità di questa situazione e faccia degli interventi non solo per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie che sono indispensabili ma soprattutto vengano chiamate delle persone competenti che possono affrontare la situazione perché purtroppo le frane, i movimenti gravitativi sono complessi quindi non basta fare gli interventi, questi interventi devono essere anche efficaci ed efficienti per poter fermare i movimenti.